Si riparte da lunedì con gli interrogatori al gruppo di giovani accusati di violenza da una ventenne a Siena. Sarà la volta di Manolo Portanova. È lui il calciatore di Serie A accusato di aver partecipato assieme ad altri giovani al presunto stupro di gruppo. Il centrocampista del Genoa è figlio di Daniele, giocatore della Robur dei Tempi d'Oro, lanciato in Serie A dalla Juventus di Allegri, passato in Liguria nella sessione di mercato di gennaio scorso. Una promessa del calcio italiano, che era stato convocato anche pochi giorni fa a Coverciano, nella partita che la nazionale maggiore di Mancini aveva disputato con l'Under 20 in vista degli europei. Portanova è a domiciliari, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Gli altri due giovani sentiti giovedì hanno chiesto la revoca della misura cautelare, ma l'istanza è stata respinta. A quanto mi risulta non c'è stato nessuno storico. Ad oggi non c'è stata una serata allegra tra amici. In quell'occasione la difesa di uno degli indagati ha definito l'episodio come una serata allegra tra amici, quella andata in scena la settimana scorsa negando lo stupro. C'è da sentire tante altre persone perché in casa c'erano tante persone. La squadra mobile ha già stilato un elenco di persone informate sui fatti che saranno ascoltate. Gli investigatori sono a caccia di video girati in quella circostanza.